Un po' indietro subito voi, un po', ecco, ora un po' più alto ancora, ok, andiamo, andiamo, dai, bravo Kevin, leva te, e vai deciso, via via via, stai in mezzo a te Nea adesso? Un po' indietro si trasporta in un atomissile con circuni di mille valgole fra le stelle, sprinta e va, mangia libri di cibernetica, insalati di matematica, e a giocare su malpecate. Non andate in due lì, bravi, 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 bravi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti